Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Coco Channel e volevo fare una piccola intro per parlarvi di ciò che vedrete nei prossimi video vedrete recensioni di vari dispositivi dall'interrettore wifi piuttosto che Alexa o smartwatch domotica a basso costo, videogame in uscita troverete anche video che parleranno di aiuti telecomandati o droni e tante altre cose che poi non vi svelerò ma vedrete e vi spiegherò al meglio come usarli nei miei video io sarò imparziale ovviamente vi mostrerò ciò che proverò e ovviamente se ci saranno purtroppo cose negative le dovrò dire e le dirò senza nessun dobleo e spero anche di aiutarvi a sfruttare meglio i vostri dispositivi o perché no, aiutarvi nella vostra scelta se dovete acquistarli infatti nella parte bassa di ogni video troverete i link per acquistarli periodicamente infatti questi link io li aggiornerò per potervi mettere sempre costo un po' più basso diciamo se ci sono delle promozioni in atto o delle variazioni spero anche di farvi ridere perché no a profetto anche di questo intro volevo presentarvi il mio assistente sì ci sono anch'io sarò il suo assistente non sarò sempre presente quando ce ne sarà bisogno e soprattutto quando ci saranno da fare un po' di dispetti quindi spero di divertirvi dispetti di divertirvi giusto? ok lui mi aiuterà qualora ce ne fosse bisogno mi raccomando non sempre come in ogni video vi raccomanderò di iscrivervi al canale mettere un mi piace e commentate o io ho il mio assistente e risponderemo quindi vi ringrazio per il vostro sostegno e ciao ragazzi alla prossima ciao ciao